Santa Croce colà la presente stanza di accesso agli atti per valutare il lavoro della commissione di gara. L'agrobiodiversità tra tradizioni ed innovazione se ne è discusso all'Istituto Agrario di Avezzano. Istituita la Banca della Terra ad Abruzzo, le segnazioni hanno priorità a lavoratori svantaggiati. Calcio al Fatarno supera il Tortoli, Coppa Italia cede alle semifinali. Cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Torniamo a parlare della Santa Croce. Il gruppo Colella che ha partecipato con la controllata italiana Beverage al mando per la concessione della sorgente Sponga di Canestro presentato in stanza di accesso agli atti della gara bandita dalla regione Abruzzo che si è conclusa con l'assegnazione provvisoria al gruppo Norda. Tutto ciò per preparare il ricorso che sarà presentato all'atto della giudicazione definitiva della concessione se sarà superato il vaglio dell'ufficio Via. Lo rendo noto l'imprenditore Camillo Colella che guida l'omonimo gruppo che controlla anche la società per azioni Santa Croce che fino all'anno scorso aveva la concessione della sorgente Sponga e che ha in atto con la regione un serrato contenzioso, legale e giudiziario. La Santa Croce è proprietaria dello stabilimento di Canestro, delle infrastrutture e dell'omonimo marchio di acqua minerale. Abbiamo inoltrato una richiesta di accesso agli atti per valutare il lavoro della commissione di gara che già ci sembra viziato da passaggi illegittimi e conseguenti risultati discutibili anche se siamo solo alla giudicazione provvisoria perché ora si deve pronunciare il Via, spiega Colella. È piuttosto singolare che lo stesso progetto presentato dalla mia azienda meno di due anni fa nella precedente gara da noi vinta il cui bando fu annullato dal TAR per l'omessa valutazione di impatto ambientale da parte della regione. Oggi si è stato valutato con 17,75 punti di meno, continua l'imprenditore. In questo modo non si è ritenuto neppure meritevole divercare la sodia dei 65 punti necessari per accedere alla graduatoria. Non avrà quindi diritto al subentro qualora la giudicatario provvisorio non dovesse soddisfare i requisiti, questo nonostante ci sia uno stabilimento esistente e moderno con tutte le infrastrutture a norma. Enesimo scippo alla Marsica perpetrato dalla regione Abruzzo che con una proposta di convenzione per il coordinamento tecnico-amministrativo tra i soggetti attuatori dell'intervento intenderebbe affidare all'Arap la gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione della rete rigua dell'interappiana del Fucino, mentre al consorzio di bonifica resterebbe da progettazione definitiva ed esecutiva la direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza. Con delibera del 25 maggio 2016 la giunta regionale infatti ha individuato come soggetti attuatori del progetto entrambi gli enti, nell'assoluto silenzio dei consiglieri regionali della Marsica ed in particolare di quelli che attualmente reggono con i loro uomini le sorti del consorzio. Di fatto è stato permesso di individuare un tutore al consorzio di bonifica del Fucino ed ora si pretende di affidargli il compito di stazione appaltante afferma Fabrizio Lobene, presidente di Confagricoltura L'Aquila. Come dire? Che il consorzio non sarebbe in grado di gestire queste risorse? Uno schiaffo alla dignità degli attuali amministratori che non hanno avuto il coraggio di ribellarsi a questa assurda imposizione. Scorrendo la delibera infatti con un minimo di orgoglio marsicano si sarebbe potuto evidenziare il diverso trattamento riservato ai consorsi di bonifica sud e centro che potranno gestire in autonomia e senza un tutor le risorse del patto per l'Abruzzo. Ricordiamo che sono proprio questi consorsi che avrebbero bisogno di tutor visto che negli ultimi tempi le cronache regionali hanno riportato notizie piuttosto allarmanti sulle gestioni economiche di questi enti e anche l'Arap non è esente da rilievi vista la gestione del depuratore di Avezzano. Chiediamo al presidente di Berardino di convocare non solo un consiglio dei delegati ma anche un'assemblea pubblica necessaria di illustrare il progetto di un'opera che cambia le prospettive agricole per i prossimi decenni. L'agrobiodiversità tra tradizione ed innovazione è stato questo il tema al centro di un'interessante iniziativa che si è svolta nella sede dell'Istituto Agrario di Avezzano. Vediamo il servizio. L'Istituto Agrario Serpieri di Avezzano in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Collodi Marini con il Centro Giuridico del Cittadino e con Confagricoltura ha ospitato il convegno l'agrobiodiversità tra tradizione ed innovazione. L'evento ha avuto la finalità di stimolare e solicitare azioni sinergiche tra le principali figure coinvolte nella produzione, trasformazione, valorizzazione e vendita dei prodotti agricoli. Nel corso del convegno sono state trattate tematiche relative alla realtà dell'agricoltura bruzzese con un particolare riguardo a quella fucenze in quanto la ricchezza di esperienze e la riscoperta delle tipicità agroambientali del territorio rappresentano una dote preziosa per impostare un futuro più fecondo per le comunità partendo dalle risorse che il territorio può offrire. L'eccellenza della imprenditoria agroindustriale locale è stato sottolineato possono imporsi sui mercati nazionali ed esteri solo se sapranno diversificare, innovare e commercializzare le specialità agroalimentali del territorio. La scuola ha un ruolo fondamentale in quanto può essere da stimolo a questo delicato processo mettendo in campo energie, valori, idee e saperi inespressi nonché creando figure professionali in grado di poter dare una risposta adeguata e coerente alla complessità del sistema agroindustriale integrato. A riguardo ascoltiamo cosa ci ha dichiarato il neo dirigente scolastico professoressa Paola Angeloni. La professoressa Paola Angeloni è dirigente scolastico dell'istituto agrario, io continuo a chiamarlo così, ma invece è un istituto che ha cambiato denominazione in quanto guarda a nuovi corsi di studi. Sì, l'istituto di istruzione superiore dei serpieri ha in sé due indirizzi, l'istituto tecnico agrario e l'istituto professionale per i servizi e per l'agricoltura. Noi creiamo figure che in un territorio come il Fucino possono sicuramente trovare lavoro. Abbiamo inserito nella nostra affetta formativa progetti dell'alternanza scuola-lavoro con l'aiuto e con il supporto delle aziende del territorio che sono sempre molto presenti come testimone anche la giornata di oggi. Si parla di biodiversità ma il tutto è contenuto in un contesto finalizzato proprio all'inserimento dei giovani nel lavoro e mai come in questo momento ci sono le opportunità per guardare con ottimismo. Sì, sicuramente è una realtà produttiva molto attenta a questa scuola, lo vedo proprio dalle richieste delle aziende che offrono ai nostri studenti opportunità interessantissime per i percorsi di alternanza scuola-lavoro e quindi anche con l'introduzione di corsi sulla robotica e proprio per realizzare sempre più un'agricoltura di precisione. Anche perché poi l'integrazione non sempre si è verificata negli anni passati quindi adesso ci sono le condizioni. E infatti sicuramente l'alternanza scuola-lavoro rende sempre più vicino il territorio alla scuola. Questa è una sua prima esperienza ma perché è qui da poco tempo se vogliamo. Ecco, come pensa che possa guardare alla futura questa scuola, questo tipo di indirizzo? Allora, io sicuramente sono molto ottimista per quanto riguarda il futuro della scuola e anche le iscrizioni confermano questo trend positivo perché abbiamo avuto un incremento, un notevole incremento per quanto riguarda le iscrizioni nelle prime classi. Diversi indirizzi di studi, si guarda anche, mi sembra, all'enologia? Sì. Perché ci sono aziende agrarie che producono ottimo vino? Sì, noi abbiamo come specializzazione la viticoltura e quindi dal prossimo anno chiederemo l'attivazione del sesto anno per quanto riguarda l'enologia, dal momento che abbiamo una cantina, abbiamo dei vigneti anche nell'azienda di Pratola, Capestrano e di Avezzano e quindi faremo il possibile per chiedere l'attivazione del sesto anno della specializzazione di enologia. È stato approvato in giunta il regolamento di attuazione della legge regionale numero 26 del 2015 che disciplina l'istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo. Lo comunica l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe. Con questo provvedimento, commenta l'assessore, diamo attuazione ad una norma che come obiettivo quello di consentire l'assegnazione di terreni incolti o abbandonati di proprietà pubblica, ma anche privata, a chi ne faccia richiesta, al fine di promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole o anche favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle aziende agricole esistenti. I terreni verranno censiti dai comuni o dalle loro unioni con il supporto dei centri di assistenza agricola. I beni da censire possono essere segnalati dagli stessi proprietari. I comuni trasmettono alla Regione Bruzzo l'elenco delle particelle catastali disponibili. Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale predispone di avvisi contenenti le modalità di richiesta dei terreni censiti e criteri per l'assegnazione. I richiedenti dei terreni devono presentare un idoneo piano di coltivazione. Nelle assegnazioni hanno priorità i lavoratori svantaggiati, compresi disoccupati. Il Dipartimento nell'assegnazione dei terreni valuta ed approva i piani di coltivazione che accompagnano le domande di assegnazione, invita i contraenti a predisporre l'atto di trasferimento dei beni attraverso il quale vengono definite le modalità quali la forma contrattuale di affidamento, il canone e la durata che non può essere in ogni caso superiore a 15 anni. Desidero ringraziare il Presidente della Terza Commissione del Consiglio regionale, Renzo Berardinetti, il Consigliere regionale Pietro Smargiassi, che ha proposto il testo di legge. Il Dipartimento delle politiche agricole e le organizzazioni professionali agricole, conclude Pepe, per l'impegno profuso nella stesura attenta del regolamento. Piena condivisione da parte del Consiglio regionale sulla necessità di garantire qualità e sicurezza del servizio per gli utenti dell'autostrada dei parchi attraverso l'approvazione all'unanimità di un documento diretto a dare sostegno alle regioni dei dipendenti. Con queste parole espresso la propria soddisfazione il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Riccardo Mercante, al termine della conferenza dei capigruppo diretta ad audieri lavoratori che ha così proseguito. Dal 2014 il concessionario dell'autostrada 24 a 25, violando una convenzione del 2009, ha disposto la soppressione del turno notturno in otto stazioni, con l'intenzione di estendere analogo provvedimento a tutti i caselli della strada dei parchi. Una decisione che oltre ad essere in contrasto con gli accordi già in essere, viola apertamente una circolare ministeriale che ribadisce la necessità di un presidio fisico H24 presso tutti i caselli autostradali, al fine di dare assistenza immediata all'utenza e risolvere tutte quelle criticità a cui non possono far fronte sistemi automatici e remote di sorveglianza del traffico. Adesso sarà fondamentale, ha spiegato Mercante, anche grazie all'intervento dei consiglieri Gianluca Ranieri e Lucrezio Paolini, che hanno contribuito a porre l'attenzione generale tale problematica, il ruolo del Consiglio regionale che dovrà fare il possibile per fare rientrare lo stato di agitazione del personale e scongiurare lo sciopero proclamato per il prossimo 28 marzo. L'obiettivo è ovviamente quello di salvaguardare i posti di lavoro necessari e dallo stesso tempo l'assistenza all'utenza, garantendo la presenza fissa degli addetti di stazione presso tutti i caselli autostradali. Ed ora una notizia di cronaca, i carabinieri della compagnia di Tadiacozzo hanno arrestato Luca Di Luca, cinquantenne di Avezzano, per furto di auto. È successo l'altra sera, quando i militari, durante un servizio di perlustrazione Tadiacozzo, transitando sulla strada provinciale per Gallo, hanno notato all'interno di una strada boschiva una toglia Tadiaris senza targhe. Controllato il mezzo, è stato trovato alla guida di Luca, peraltro sprovvisto di patente perché revocata diversi anni fa. Con lui nel mezzo c'era anche una donna. Lei ha certamente risultato che l'auto era stata rubata poco prima da una concessionaria di Avezzano. Il titolare del salone si era appena presentato alla caserma di Avezzano appunto per denunciare il furto. De Luca, che ha numerose condanne e precedenti di polizia per furto, ricettazione, rapina e tentato omicidio, è stato arrestato. Il pubblico ministro di turno ne ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari. Il cinquantenne comparirà breve davanti al giudice per il rito direttissimo. Si svolgerà domani, 23 marzo e venerdì 24 marzo, nella sera conferenze della Facoltà di Scienze Politiche a Teramo, il convegno internazionale, la partecipazione popolare e la crisi della sovranità nel quadro euro-globale. Le sfide del multiculturalismo, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche, collaborazione con l'Associazione Demos Cittadinanza Attiva, la Camera di Commercio di Teramo, i comuni di Giulianova e Grotta Mare, il centro di ricerche di iconologia simbolica politica del Sacro. Si trattano, spiegato i coordinatori dell'iniziativa, Carlo Di Marco e Fiammetta Ricci, rispettivamente docenti di diritto pubblico e filosofia politica del terzo convegno sui temi della partecipazione popolare, dei quali ci occupiamo ormai da anni, si organizzano seminari e incontri di studio che attraverso pubblicazioni scientifiche. Questa edizione avrà un consistente profilo internazionale e si metteranno frutto esperienze e studi di grande rilievo. Per l'occasione l'Associazione Demos presenterà un progetto di legge regionale di iniziativa popolare, perché anche in Abruzzo, come in Umbria, Emilia, Romagna, Toscana e altre regioni, nascono strumenti istituzionali regionali di garanzia della democrazia, della partecipazione popolare. Moderato ottimismo, ma anche consapevolezza delle tante cose ancora da fare per una efficace implementazione della digitalizzazione nei processi amministrativi in Abruzzo. È quanto espresso dal coordinatore di tavolo di monitoraggio della digitalizzazione di Confindustria Abruzzo, Silvano Padiuca, al termine della riunione tenutasi l'Aquila con il direttore generale della regione Abruzzo, Cristina Gerardis, il direttore dell'Arit, che è l'azienda di emanazione regionale per l'informatica, e Sandro Di Minco, presenti anche altri importanti rappresentanti. La riunione è stata richiesta e veruta proprio da Confindustria Abruzzo, nel quadro dei lavori dell'osservatorio permanente sulla digitalizzazione, tavolo da tempo costituito nell'ambito della stessa organizzazione datoriale e partecipata su invito dalla stessa regione per promuovere e favorire in linea con gli standard e le direttive europee lo sviluppo della digitalizzazione, quindi lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative in Abruzzo e con l'obiettivo di sviluppare un meccanismo virtuoso di confronto con la pubblica amministrazione per l'individuazione delle priorità delle imprese e dell'intero sistema socio-economico regionale. Doppio appuntamento europeo domani e dopo domani all'Aquila, l'auditorium di Palazzo Silone per i programmi europei di finanziamento, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo. Domani è infatti previsto con inizio alle ore 11 il Comitato di Sorvedianza di Chiusura della programmazione FESTR relativa al 2007-2013. Saranno il Presidente della Giunta Regionale, Luciano D'Alfonso, e il Direttore Generale, Cristina Girardis, ad aprire i labori che prevedono gli interventi di Vincenzo Rivera, l'autorità di gestione, Luigi Nigri, Commissione Europea e Carla Cosentino dell'Agenzia di Coesione Territoriale. Al Comitato di Sorveglianza sono stati chiamati a partecipare anche i rappresentanti del Partenariato Economico e Sociale Abruzzese. I lavori si focalizzeranno sulla verifica delle principali linee di attività, di programma e dei risultati conseguiti anche attraverso l'illustrazione del rapporto finale di esecuzione. Ed ora passiamo alla pagina sportiva con il calcio in Coppa Italia. Il Paterno supera il Tortoli e cede alle semifinali, ma vediamo il servizio curato dalla nostra redazione sportiva. 4-4 all'andata e vittoria per 3-1 al ritorno. Il Paterno supera il Tortoli e guadagna così l'accesso alla semifinale della Coppa Italia di eccellenza. Un traguardo storico per la formazione marsicana che cancella la sconfitta in campionato subita ad opera del San Buceto e guarda con malcelato ottimismo a questo trofeo che in caso di successo garantirebbe anche l'ingresso in Serie D. Partita vera quella giocata al Comunale di Canistro perché il Tortoli, che vediamo in divisa gialla, nonostante abbia ormai stravinto il proprio girone sardo di eccellenza e quindi sia già salito matematicamente in quarta serie, non aveva alcuna intenzione di regalare nulla all'avversario. E che le intenzioni dei nuoresi fossero serie si è capito dopo soli tre minuti, quando Angel Edu trova spazio sulla destra e obbliga Serpietri alla non facile deviazione. Squadra di qualità quella sarda, ma il Paterno non è da meno e al quindicesimo, sul calcio piazzato, Di Ruocco obbliga Floris a rifugiarsi in corner, deviando il pallone indirizzato sul palo coperto dalla barriera. Ventottesimo, lancio in diagonale per Placentino che, per fortuna del Paterno, non approfitta dell'opportunità e sul rovesciamento di fronte la palla buona capita ai Marsicani. Verticalizzazione a beneficio di Aquino che supera in velocità l'avversario diretto e viene steso da Vignati prima di entrare in area di rigore. Fallo evidente quello di Vignati che l'arbitro giudica come ultimo uomo e per questo motivo tira fuori il cartellino rosso lasciando il Tortoli in dieci per il resto della partita. Episodio che condizionerà inevitabilmente il resto della gara e che permetterà al Paterno di giocare con animo più tranquillo. Alla mezz'ora c'è un calcio piazzato dal limite che Di Ruocco non sfrutta al meglio. La palla scavalca la barriera ma supera anche la trasversale. E prima della fine del tempo è Bolzano a sfiorare l'incrocio dei pali su tiro piazzato dai 17 metri. Il fallo se lo era guadagnato Orlando Aquino. Lo 0-0 al termine della prima frazione continua a non lasciare tranquillo il Paterno che a inizio di ripresa si attrezza per chiudere definitivamente il discorso. È il terzo minuto quando Di Ruocco riceve palla a metà campo, se ne va alla sua maniera sulla fascia sinistra e dopo aver saltato l'avversario diretto batte imparabilmente Floris con il diagonale basso che abbiamo appena visto. Un gol che vale tantissimo anche sul piano psicologico perché con un uomo in meno al torto lì rimane tutto più complicato. I Sardi accusano il colpio e al tredicesimo sul rilancio del portiere Leccese spizza di testa beneficio di Aquino che si invola verso la porta per lasciar partire un sinistro che per poco non smonta la trasversale. Altri tre minuti e arriva il raddoppio. Bolzan mette in moto Aquino che scatta veloce e di prima intenzione fa secco Floris con un bolide che si insacca sotto la traversa. Tortolichia è sulle ginocchia e ci manca poco che al ventesimo il Paterno metta a segno la terza rete. L'azione è un classico contropiede e la palla gol è a beneficio di Leccese che però si fa ipnotizzare da Floris al momento del tiro. Partita finita neanche per idea perché il reparto avanzato ospite è di assoluto valore e lo dimostra subito dopo con questo cross da sinistra a destra per la testa di Niedu che appoggia verso il palo più lontano dove è appostato Figos che tocca facile in fondo al sacco e riapre il discorso. Alla mezz'ora c'è un cross di Di Ruocco dal fondo per la testa di Aquino che si mangia letteralmente il gol con questa deviazione da un paio di metri. Il caldo e la fatica si fanno sentire e in campo si registra qualche fallo di troppo. Non c'è cattiveria ma l'arbitro non può esimersi dal fischiarli e su uno di questi, siamo al trentaseesimo, Vitale non perdona. La mattonella è quella giusta e anche il sinistro a girare del centrocampista che inchioda letteralmente Floris, impossibilitato ad intercettare. E prima del novantesimo c'è ancora da vedere un destro al fulmicotone di Albertazzi che da 25 metri per poco non brucia i guanti ad un sorpreso Floris. Vince il paterno e il primo a congratularsi con i marsicani è proprio il presidente regionale Daniele Ortolana. È una bella soddisfazione per il canistro ma anche per l'Abruzzo Tutto. Presidente Ortolano, la sua presenza qui è importante, significa che comunque la federazione tiene a che una squadra abruzzese vada avanti. Beh, sicuramente. Oggi è un motivo d'orgoglio per tutto l'Abruzzo che il paterno dopo tanti anni arrivi a una semifinale di Coppa Italia. È un traguardo importante, c'è da fare l'ultimo sforzo perché sappiamo benissimo che adesso sono rimaste le migliori squadre. Sappiamo anche che si è qualificata su un campo difficilissimo la squadra siciliana e quindi per il paterno sarà un'altra lunga trasferta cercando di arrivare alla finalissima che darebbe sicuramente prestigio al paterno ma forse anche un'altra certezza che è quella di salire direttamente in Serie D. Quindi aspettiamo con ansia queste due partite e ci prepareremo perché il paterno arrivi fino in fondo. Sicuramente l'Abruzzo è vicino a questa società anche perché sta dando lustro a tutto il nostro calcio ma ha già fatto benissimo nel passato e credo che meriti finalmente il raggiungimento di un traguardo importante se poi fosse veramente, se culminasse veramente con la vittoria della Coppa Italia sarebbe un'altra impresa storica perché l'Abruzzo non vince la Coppa Italia nazionale di Lettanti, se io ricordo bene, dai tempi dell'Avezzano di quasi 30 anni fa forse. Francesco Loi, tecnico del Tortoli una partita condizionata sicuramente dall'espulsione dopo una ventina di minuti del vostro difensore diversamente come sarebbe finita? Perché qualcuno pensava che il Tortoli va in Abruzzo per fare una gita visto che il campionato l'ha stravinto e invece non mi è sembrato proprio. L'unico che è venuto in Abruzzo a fare una gita è l'arbitro perché noi siamo venuti qua a fare una partita seria come siamo abituati a fare avremmo voluto giocarcela ad armi pari ma per una scelta ridicola perché a termini di regolamento ma anche a termini di logica un'espulsione del genere dopo 20 minuti non si vede neanche in terza categoria non in una partita così importante con in palio un passaggio di un turno a una semifinale nazionale quindi siamo veramente molto amareggiati perché la nostra partita è stata condizionata al 200% da questa scelta. Però fallo da ultimo uomo c'era? Non era ultimo uomo c'era il difensore che aveva recuperato ampiamente tant'è vero che la palla l'ha ripresa il nostro difensore era fallo assolutamente non era un fallo violento e non c'era per regolamento nessun motivo per tirar fuori un rosso diretto dopo 20 minuti. Avete stravinto il campionato quindi l'anno prossimo salite in Serie D ma quanto fastidio vi dà uscire così dalla Coppa? Uscire così dalla Coppa è un'ingiustizia per il gruppo perché avremmo perso volentieri 3 a 1 sul campo potendoci giocare la partita invece così non ci è stato consentito di potercela giocare. Abbiamo giocato 70 minuti con l'uomo in meno dopo che si gioca quando si gioca ogni tre giorni contro una squadra molto ben organizzata alla quale stavamo tenendo testa benissimo per i primi 20 minuti avevamo avuto la palla a gol più pulita mandando Anghiere Dussolo davanti al portiere e un'altra occasione con Placentino purtroppo la partita poi giocarla con l'uomo in meno è diventata impossibile. Presidente, allora c'era timore di non farcela e invece una grande prestazione un'altra grande prestazione di questo Paterno siete fra le 4 migliori d'Italia per questa Coppa Italia. Il timore c'era perché gli avversari sono fortissimi anche oggi hanno dimostrato di essere una squadra fortissima e complimenti a loro per il prossimo campionato di Serie D speriamo di raggiungerli in Serie D e noi abbiamo fatto una grandissima prestazione il campo era quello ideale per far giocare bene le due squadre giocano bene quindi si sono espresse al meglio grazie anche al campo e quindi siamo soddisfattissimi. Alessandro Lucarelli un uomo in più dopo 20 minuti quanto può aver influito? In che misura? Ma è influito sicuramente però oggi per noi la partita era molto complicata in virtù della partita di domenica di campionato io devo fare solo i complimenti alla squadra perché ogni volta che prendiamo delle batoste tipo domenica scorsa all'ultimo minuto siamo in grado sempre di reagire questo significa che siamo una squadra forte molto forte la più forte del campionato che però delle volte ha dei cali di tensione dovuti anche a questi turni infrasettimanali ma adesso questo passaggio del turno cambia tutto e nel senso che dobbiamo essere capaci di vincere anche domenica di vincere in campionato le prossime partite e di andare avanti e fare qualcosa di impensabile all'inizio per il paterno Bravissimi tutti ma oggi forse mi sento almeno da cronista a spendere due parole in più per Crass e per Di Stefano due elementi fondamentali uno al centrocampo e uno in difesa Di Stefano in difesa è tanto Sì, Nino sicuramente sta interpretando benissimo il ruolo come piace a me aggressivo, dritto sull'avversario in anticipo ed è molto reattivo è un difensore che secondo me ci sta poco con queste categorie mentre Nicolas è naturalmente il giocatore in questo momento più in condizione perché ha giocato di meno ha avuto l'infortunio in questo momento come vedete i giocatori che hanno giocato di meno sono più freschi e riescono a fare prestazioni come oggi come domenica scorsa e anche con i nerostellati che è stato uno dei migliori Ortolano ha detto che vi capiterà la squadra siciliana il Troina mi pare che si chiami insomma un'altra trasferta lontana ma contro un avversario del quale sai qualcosa? No, non so niente ma la cosa importante è che io so che la mia squadra è in grado di fare l'impresa è in grado di fare bene e di provare a passare il turno e arrivare a questa finale che veramente sarebbe qualcosa di storico a questo punto per l'Abruzzo Quante possibilità ci sono di arrivare fino alla fine e di vincere? No, non so è chiaro che al momento 50% però da meno per passare il turno però un passo alla volta adesso domenica abbiamo il Francavilla che ci aspetta molto a Guerrida e noi dobbiamo essere in grado di ripetere questa prestazione anche con il Francavilla perché per noi il campionato assolutamente continua e deve continuare però con una mentalità come quella di oggi Il servizio di sport chiude questa edizione del giornale prima dei saluti come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antennaduetivo.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni dunque grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci Grazie Grazie